Ben ritrovati amici di Padre Pio TV, oggi vogliamo mettere a fuoco alcuni passaggi del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tenuto nell'ultimo giorno dell'anno ormai scorso. Un discorso che ha trovato ampio risalto sulle prime pagine dei quotidiani del giorno 2 gennaio, perché il primo gennaio i quotidiani non sono stati presenti in edricola e dobbiamo dire che non tutti hanno messo a fuoco quelle parti, quelle parti di volte ai giovani di cui parleremo oggi. Ma vediamo le prime pagine dei quotidiani del 2 gennaio, cominciando dal quotidiano Avvenire. Guerre, violenze e pace, la nostra responsabilità. Gli interventi del Papa, questo nell'occhiello, e del Presidente della Repubblica, sintonici sulle sfide mondiali e in Italia. Occhiello da Francesco e Mattarella, appelli all'unità e all'impegno personale, cultura da costruire. E poi nella prima pagina leggiamo dall'Ucraina al Medio Oriente, nuovo vibrante al pello del Papa, all'impegno per il dialogo e la pace, nell'omelia della Messa e poi all'Angelus del 1 gennaio, l'invito a guardare a Maria come modello per la Chiesa e il mondo. La gratitudine per la marcia della pace organizzata dalla Chiesa italiana a Gorizia e alla manifestazione promossa dalla comunità di Sant'Egidio. Anche il Capo dello Stato, e qui veniamo al nostro argomento, ha ricordato che per rivitalizzare la democrazia serve l'impegno di ciascuno, richiamando l'importanza del voto libero, più di sondaggi e social e le testimonianze come quelle di Pizzaut, degli spallatori in Romagna e di chi opera sui beni confiscati. La sottolineatura sui diritti umani che già la Costituzione invitava a riconoscere perché nati prima dello Stato. Passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera che anche in questo caso in grande evidenza non è il titolo di testata ma comunque in posizione di spalla, sottolinea con il titolo appunto Mattarella, appello all'unità e per i giovani, ecco già a venire sottolinea questo interesse del Capo dello Stato per i giovani, votare è libertà, no a certa aggressività. Leggiamo anche qui l'incipit, guerre, divisioni, disuguaglianze, dignità negate, giovani e l'appello all'unità nel discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella. Unità ma non come risultato di un potere che si impone quanto piuttosto come modo di intendere la comunità nazionale. L'invito a votare come espressione di libertà è un fermo no a certa aggressività. Ma entreremo nel dettaglio più tardi andiamo con la prima pagina del quotidiano La Repubblica dove però troviamo il riferimento al discorso di Mattarella confinato nell'ultimo rigo del sommario. Il titolo che viene dato con maggiore evidenza è il titolo di apertura Capodanno con la pistola ma alla fine soltanto questo accenno nell'ultimo rigo del sommario. Mattarella partecipare alla vita civile e votare non stare sui social. Sintetizzato soltanto con questo rigo in prima pagina da Repubblica quello che ha detto il Capo dello Stato. E invece il quotidiano Il Giornale nell'edizione sempre del 2 gennaio si occupa del discorso del Presidente della Repubblica soltanto nei due commenti che ritroviamo in apertura. Il primo commento di Filippo Faccidi sottolinea la parola che Mattarella non ha detto e questa parola troviamo nella lettura dell'incipit è giustizia ma parliamo della giustizia quella che si cerca di ottenere nelle aule dei tribunali. E subito accanto c'è un altro commento quello di Vittorio Maccio Cedi che si occupa invece che mette a fuoco la rivoluzione che il Presidente ha intercettato e questa rivoluzione che Mattarella ha individuato che sta cambiando e che porterà radicali cambiamenti nel futuro della nostra società è legata alle nuove tecnologie e in particolare all'intelligenza artificiale. Ma noi vogliamo approfondire come dicevamo quelle frasi, quelle espressioni, quelle parole di esortazione e di incoraggiamento che il Presidente della Repubblica quasi da nonno ha voluto rivolgere attraverso la sua lunga esperienza personale e familiare, attraverso gli anni di militanza politica, attraverso anche il suo essere stato docente universitario, ricordiamo che Mattarella è stato professore di diritto costituzionale ma anche attraverso l'età che ha raggiunto, superato gli 80 anni, ha voluto rivolgere questo appello diciamo disseminato in più parti del discorso ai giovani. Appello che vogliamo condividere e commentare oggi con il professor Luigi Italienti che è dirigente scolastico dell'istituto professionale Michele Lecce di San Giovanni Rotonda a cui diamo non il benvenuto ma il bentornato fra noi. Io ringrazio per l'invito che ho colto con molto piacere visto la rilevanza e la valenza del tema che andremo a trattare. Quando si parla di giovani si parla di prospettiva, si parla di futuro e quindi cogliamo gli aspetti connotativi di un discorso di alto tenore del nostro Presidente della Repubblica. E abbiamo stralciato proprio dal discorso di Mattarella quattro passaggi indirizzati ai giovani. Il primo, vorrei rivolgermi ai più giovani. Cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici, l'amore non è egoismo, dominio, malinteso orgoglio. L'amore, quello vero, è ben più che rispetto, è dono, gratuità, sensibilità. Penso anche alla violenza verbale e alle espressioni di denigrazione e di odio che si presentano sovente nella rete. Penso alla violenza che qualche gruppo di giovani sembra coltivare talvolta come espressione di rabbia. Penso al risentimento che cresce nelle periferie, frutto spesso dell'indifferenza e del senso di abbandono. Penso alla pessima tendenza di identificare avversari o addirittura nemici, verso i quali praticare forme di aggressività, anche attraverso le accuse più gravi e infondate, spesso travolgendo il confine che separa il vero dal falso. Allora, professore, due parole antitetiche, amore e violenza, ma due parole che per certi versi vengono impropriamente messe insieme perché taluni, in nome di un sentimento che credono essere amore in realtà è egoismo e possesso dell'altro, operano delle azioni di violenza talvolta estreme. E la cronaca degli ultimi mesi dell'anno appena finito ce lo ha dimostrato. È una situazione diffusa nei giovani? Secondo me sì. In effetti il plauso va ribadito al Presidente della Repubblica perché in quanto rappresentante dell'unità nazionale e garante dell'applicazione dei principi costituzionali nei suoi discorsi ha sempre colto aspetti nevralgici che purtroppo affliggono la nostra società. Il dualismo è la cattiva interpretazione di questi due concetti, amore e possesso, purtroppo è ricorrente in episodi violenti che si verificano, ahimè, in maniera costante. Ovviamente il Presidente della Repubblica utilizzando parole semplici perché l'ha sempre fatto, in effetti è un nostro dovere che in piccolo dobbiamo rispettare, dobbiamo rivolgerci ai giovani con un linguaggio loro comprensibile, dobbiamo utilizzare il codice comunicativo che loro prediligono, ma per seminare amore, l'amore quello vero, l'amore che non ammette violenza, l'amore che non ammette possesso, l'amore che non ammette discriminazione. In effetti noi come comunità educante, perché io ovviamente parlo da uomo di scuola, da docente, da dirigente scolastico, ma da uomo che ha a che fare con i giovani e cerca di creare relazioni forti con i giovani nel quotidiano, dobbiamo seminare dei principi che hanno una valenza universale e trasversale che debbano accantonare in maniera definitiva il sentimento dell'odio, il sentimento della contrapposizione. Ecco, nel denunciare questa tendenza dei giovani, perché loro si rivolge Mattarella alla violenza, fa riferimento al fatto che spesso attingono queste incitazioni alla violenza nella rete, è così? Allora, io ho riscontrato in maniera pragmatica, sono portatore di un'esperienza che ho vissuto direttamente e ovviamente rendendomi testimoni di questa esperienza attribuisco al mio intervento un carattere pragmatico che non è aleatorio. Io ho riscontrato che subito dopo il momento pandemico i ragazzi avevano una predisposizione a instaurare relazioni interpersonali virtuali e non virtuose in presenza. In effetti a ritorno a scuola noi abbiamo dovuto riattivare un percorso un processo di scolarizzazione, perché la presenza era diventata difficoltosa, la presenza quella vera, quella efficace, quella che dovrebbe connotare la fantasmagorica quotidianità scolastica, era preclusa da questa distanza che è stata indotta per causa di forza maggiore ma che è stata sposata, ahimè, con troppa leggerezza dei nostri giovani. hanno rilevato una propensione a creare delle relazioni virtuali che ovviamente nascondono insidie, nascondono criticità e ovviamente sono pervasive e che devono essere contrastate. La rete può essere uno strumento di supporto delle relazioni vissute sanamente in presenza ma non può sostituirle. Questa propensione ovviamente deve essere contrastata, ci sono state delle leggi che sono state introdotte nel nostro ordinamento giuridico che impongono che le comunità scolastiche debbano educare e insegnare l'utilizzo razionale degli strumenti informatici e quindi per interconnessione anche degli strumenti social. E quindi il ruolo del docente in questo particolare momento storico, ma lo è sempre stato, è un ruolo di fondamentale importanza. Quindi il docente deve osservare, deve carpire, deve interpretare e in sinergia con tutte le componenti della comunità educante deve sapere intervenire o stimolare un intervento. Questa è la vita scolastica che dovrebbe appunto incidere sulla prevenzione e sul contrasto di taluni fenomeni che ovviamente sono deprecabili, perché nei social, ahimè, come attestano i dati statistici che vengono continuamente divulgati, si consumano dei reati e probabilmente i nostri giovani non sanno che talune condotte, anche se realizzate dietro un'identità falsa, possono determinare la consumazione di un reato, possono determinare un disagio, possono determinare addirittura uno stato depressivo altrui, perché poi dal bullismo si è traslati al cyberbullismo. Quindi dall'altra parte ci può essere una persona che ha una personalità fragile che ovviamente è vittima di talune condotte e deve essere ampiamente tutelata. Continueremo a commentare il discorso del Presidente della Repubblica, quelle parti dirette ai giovani, subito dopo un brevissimo spazio pubblicitario. Restate con noi. Siamo ancora in studio con il Professor Luigi Italienti, dirigente scolastico dell'Istituto Professionale Michele Lecce di San Giovanni Rotondo, con cui stiamo commentando alcuni passaggi rivolti ai giovani nel discorso del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di fine anno. Secondo passaggio, rispetto allo scenario in cui ci muoviamo i giovani si sentono fuori posto, disorientati se non estranei a un mondo che non possono comprendere e di cui non condividono andamento e comportamenti. Un disorientamento che nasce dal vedere un mondo che disconosce le loro attese, debole nel contrastare una crisi ambientale sempre più minacciosa, incapace di unirsi nel nome di uno sviluppo globale. In una società così dinamica come quella di oggi vi è ancora più bisogno dei giovani, delle speranze che coltivano, della loro capacità di cogliere il nuovo. Questo disorientamento denunciato dal Presidente della Repubblica si coglie anche in ambito scolastico? Certo che si coglie, ripeto, è un grande osservatore di tutti i fenomeni sociali il nostro amato Presidente della Repubblica, ma in maniera sottesa il nostro Presidente della Repubblica ha proposto, cosa che secondo me è di inestimabile, incontrovertibile valore, il rafforzamento del rapporto di continuità orizzontale tra generazioni. Non ci deve essere un distacco generazionale, ma ci deve essere un rafforzamento sinergico tra le generazioni, pregresse e future. Le giovani generazioni devono cogliere l'esperienza delle pregresse generazioni e utilizzarle come modello educativo. Modello educativo che porta a sedimentare un senso di appartenenza e non di estremità rispetto alla società di cui fanno parte e di cui hanno diritto di essere protagonisti diretti e attivi. Ovviamente è compito di noi adulti rafforzare la speranza, sedimentare questo senso di appartenenza. Noi nel piccolo cerchiamo di sedimentarlo in ragione della comunità scolastica che i nostri ragazzi frequentano. La scuola deve agire oltre il tempo scuola, oltre la struttura scolastica. Non è circoscritta a un'azione didattica che si consuma nel periodo curriculare, ma la scuola è deputata dall'ordinamento giuridico in quanto agenzia di socializzazione formale all'esercizio di una funzione sociale che è ben più ampia rispetto alla funzione didattica. Noi abbiamo il compito di erudire lo studente e questo ovviamente è la nostra mission, ma in ottica prospettica dobbiamo costruire il cittadino. Però in questa fase mi consente, i nostri ragazzi hanno il diritto di sognare, hanno il diritto di avere aspettative e noi abbiamo il dovere di accompagnare loro nella realizzazione dei loro sogni. Ovviamente laddove il sogno dovesse risultare irrealizzato noi dovremmo dare loro una spiegazione razionale, dovremmo dare loro l'opportunità di credere in una soluzione alternativa. Dobbiamo dare loro il diritto di sognare in una prospettiva rossia. Però se circostanziamo i nostri interventi all'oggi, solo e esclusivamente alla dimensione dell'oggi e del presente, non diamo una prospettiva futura. Ecco, proprio la scuola ha indirizzato il terzo ambito di riflessione di Mattarella sui giovani, quando dice affermare i diritti significa prestare attenzione alle esigenze degli studenti che vanno aiutati a realizzarsi, il cui diritto allo studio incontra nei fatti ostacoli, a cominciare dai costi di alloggio delle grandi città universitarie improponibili per la maggior parte delle famiglie. Siamo nel 2024 ormai, cioè non siamo più alla fine del 1900. Ancora oggi esistono difficoltà di accesso al diritto allo studio da parte dei meno abbienti? Certo, nonostante ci siano degli interventi che il legislatore ha realizzato per facilitare l'inserimento e per rendere concretamente attuativo lo statuito normativo e nucleato nell'articolo 34 della Costituzione. Ecco il garante di principi costituzionali. Però questa garanzia e questo riconoscimento in senso assoluto purtroppo ancora non esiste. Ovviamente compito del legislatore, compito di ognuno di noi, perché in effetti Mattarella conclude il suo discorso, tutti insieme siamo più forti, è quello di creare delle sinergie per rendere questi principi non solo declamazioni verbali, ma effettivamente principi che sovrendendono il regolare svolgimento della vita comunitaria e non escludono nessuno. Guardi, anche all'interno della realtà scolastica molto spesso ci sfugge il disagio, molto spesso sfugge chi si sottrae, forse per causa di forza maggiore e per causa a lui non imputabile, l'obbligo scolastico. Io penso che la cultura non debba essere raggiunta, ma la cultura ha il dovere di raggiungere colui che in quel momento si rende irraggiungibile, ma per cause a lui non imputabili. Io posso dire, e mi piace raccontarla, nella mia esperienza ho insegnato nei CTP. Spieghiamo ai nostri spettatori. I CTP, ora diventati CPA, erano i centri territoriali permanenti, segmenti di scuola frequentati dai lavoratori, coloro che non avessero avuto la possibilità di frequentare la scuola in età scolare. Io ricordo che all'inizio di ogni anno ovviamente le iscrizioni non risultavano pervenute, perché se noi operatori scolastici in quel segmento scolastico, aspettavamo che qualcuno si iscrivesse in quella scuola, ovviamente saremmo stati sciocchi e sprovveduti. E quindi noi cercavamo i ragazzi in situazioni di disagio per portarli a scuola. Ce li andavate a trovare nei luoghi in cui vivevano? Nei rioni più disagiati, nei mercati rionali. Li abbiamo ricercati, li abbiamo trovati e molti di loro hanno visto riconoscere il loro diritto allo studio, perché sono stati raggiunti dalla cultura. Noi molto spesso prestiamo poca attenzione al disagio e all'emarginato e all'emarginazione. Però se vogliamo essere come ci dice e ci ha detto più volte il nostro Presidente della Repubblica, inclusivi, ovviamente dobbiamo estendere la nostra azione e renderla ad amplio raggio affinché nessuno venga escluso. Ultimo passaggio, anche questo molto importante, del Presidente Mattarella rivolto ai giovani. Viviamo in un passaggio, si ripete la parola, epocale. Possiamo dare tutti qualcosa alla nostra Italia, qualcosa di importante, con i nostri valori, con la solidarietà di cui siamo capaci, con la partecipazione attiva alla vita civile. A partire dall'esercizio del diritto di voto, per definire la strada da percorrere e il voto libero che decide. Non rispondere ad un sondaggio o stare sui social. Non dobbiamo farci vincere dalla rassegnazione o dall'indifferenza. Non dobbiamo chiuderci in noi stessi per timore che le impietuose novità che abbiamo davanti portino soltanto pericoli. Prima che è un dovere partecipare alla vita e alle scelte della comunità è un diritto di libertà, anche un diritto al futuro, alla costruzione del futuro. Partecipare significa farsi carico della propria comunità, ciascuno per la sua parte. Ecco, in effetti, facendo un po' il laudato or tempora acta, devo ricordare come quando ero giovane io, i giovani erano motivati alla politica. C'erano i vari circoli giovanili dei partiti, parliamo ovviamente della cosiddetta prima repubblica, però perlomeno c'erano degli ideali che si seguivano e questi si trasformavano in parte in voto cosciente, in parte anche in azione politica vera e propria. Quei giovani di un tempo oggi sono classe politica o dirigente di oggi. Oggi questo non esiste più. No, in effetti, altro splendido passaggio del Capo dello Stato. Secondo me, in questo particolare momento storico, mancano centri di aggregazione giovanile, centri in grado di permettere ai nostri giovani di acquisire delle scelte consapevoli e degli orientamenti che poi ovviamente, oltre a rappresentare orientamenti di vita, possono rappresentare un orientamento politico, perché la vita politica fa parte del comparto esistenziale e quindi loro devono riconoscere, devono autodeterminarsi e in ragione della loro autodeterminazione devono esprimere un voto consapevole, un voto voluto e un voto di coscienza. Molto spesso si assiste a uno scenario che è poco gradevole dal punto di vista civico. Qualcuno dice io non vado a votare, non me ne frega niente, tanto decidono gli altri, ma se tu non contribuisci col tuo voto a un processo decisionale sano, decideranno sempre gli altri e sempre gli altri saranno candidati come responsabili di un disagio che tu percepisci in prima persona, ma per il quale non fai nulla di tuo e di personale per contrastarlo e prevenirlo. Ecco perché il concetto di comunità è ricorrente nei passaggi del discorso del Presidente Mattarella, perché ognuno deve essere in grado di dare il suo apporto. L'apporto non può essere delegabile, non può essere disconosciuto, l'apporto deve essere concreto, attivo e proattivo, così si diventa protagonisti di una società che evidentemente necessita di un processo di riqualificazione di una certa entità e questo processo di riqualificazione inevitabilmente passa da una programmazione per il raggiungimento di obiettivi nel breve periodo, ma da una pianificazione per il raggiungimento di traguardi nel medio e nel lungo periodo. Nessuno si deve sentire escluso. E neppure l'esempio di Greta Thunberg è riuscito a smuovere i giovani e indurli ad una partecipazione più attiva, anche a livello di manifestazione di piazza del pensiero. Allora noi, ripeto, c'è una certa disattenzione rispetto a certi temi. I giovani devono essere educati a costruire la loro prospettiva. Oggi molto spesso sono più sensibili a vivere, a trascorrere e non a vivere la propria quotidianità. Si vive la giornata. Però vive la giornata non da un senso prospettico alla loro vita, ma soprattutto non garantisce un'eredità sana che noi di questa generazione dobbiamo garantire alla generazione futura. Di questo ne parla l'agenda 2030. Il concetto di ecosostenibilità è un concetto universale decantato su vari livelli, però si propende a pensare all'oggi e poco al domani. Quindi dobbiamo tutti affezionarci a una prospettiva e non essere legati in maniera morbosa al presente, perché c'è un futuro e noi abbiamo un dovere etico, morale e civico. Lasciare un'eredità che sia ricchente per tutti e per coloro che verranno, un'eredità fatta di principi etici, civici, morali e giuridici. Solo così il disagio effettivamente potrà essere contrastato e potrà essere evitato alle generazioni future. Dobbiamo essere anche un po' egoisti, dobbiamo pensare sanamente al nostro futuro e per pensare al nostro futuro dobbiamo avere un'attenzione particolareggiata sui nostri giovani che rappresentano la nostra prospettiva. Dobbiamo avere un contatto diretto, un'interlocuzione diretta e un confronto diretto e non dobbiamo perderci un attimo, perché quell'attimo perso può produrre un danno nella loro vita. Non ci resta che rileggere attentamente il discorso di Mattarella e per poi rimboccarci le maniche e cercare di dare concretezza a quelle indicazioni. Grazie al professor Luigi Talienti per averci aiutato a penetrare tra le righe questo importante discorso. Grazie anche a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi.